parto? vai 15 secondi come? ah ma tu sei bagnato cioè tu sei proprio lavato come? come? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. No. 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 Buona. No. Buona. schiacciamonte 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 quanto siete? no allora c'è pallone santo chiamate santo sciamante santo Hai visto come ti arrovescio? Con due mani Mette la mano dietro alla pezzetta Così dai un filo un po' più giro Io ce la faccio con due Io ho più la mano da più in po' Ho più la mano delle tasse Dopo facciamo 3 contro 3? Perché poi è finito il tempo Era fuori un casino Monte stanco Oh figlia me nel 3 contro 3 Oh eh 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 No puoi puoi Ma dovrebbe mettere il muto Domani si sedono sul divano No Dai vediamo il video della partita di ieri E' un po' più studio Troppo sottile Troppo sotto Raga non fateci caso Continuate, continuate Manca 30 secondi Porco Dio 20 secondi Finita Dai io vengo con voi Vengo con voi dai Sì, 3 contro 3